Esatto! Blu, tu, che cosa vorresti fare quando lei arriverà? Oh! Noi giocheremo a Blu's Clues per scoprire che cosa farà Blu quando Magenta arriverà da noi! Noi giocheremo a Blu's Clues e poi Magenta arriverà da noi! Oh, ok! Allora, ricordate che l'impronta di Blu sarà su tutti gli indizi Blu's Clues! Oh! Certo! Questa non possiamo lasciarla qui! Perciò diamole una bella pulita! E magari con un piccolo aiuto della nostra amica... Blu! Oh! Wow! Ben fatto! Ti ringrazio, Blu! Ehi! Sapete cosa ci serve adesso? Il nostro indovina indovinello... Blocco degli appunti! Blocco degli appunti ce l'abbiamo! Sapete? Credo che mi servirà una mano! Voi mi aiuterete? Sul serio? Forte! Per giocare a Blu's Clues ci servirà una... Impronta! Ma certo, un'impronta! E sarà quello il nostro primo... Indizio! Esatto, indizio! E lo annoteremo nel nostro... Blocco degli appunti! Segnali nel blocco! Sono gli indizi di Blu! Dobbiamo cercare un'altra impronta! Che è il secondo indizio? Segnalo nel blocco! Sono gli indizi di Blu! Cerchiamo l'ultima impronta! Quello è il terzo indizio? Segnalo nel blocco! Sono gli indizi di Blu! Sapete cosa fare? Mettiti sulla poltrona e pensa bene perché usando la testa con un passo alla volta noi possiamo fare tutto quello che vuoi tu! Oh, ok! Allora, siete pronti? Bene! E tu sei pronta, Blu? Blu? Voi per caso avete visto dove è andata? È di là! Oh! È andata di là? Ti ringrazio! Un indizio! Oh! La pettinatura? Grazie! Oh! Anche la vostra non è niente male! No! È un indizio! Oh! Avete visto un indizio? Dove? Sopra di te! Hm? Sopra di me! Io sono l'indizio! Ok, ma certo io sono un indizio, ho sempre voluto essere un indizio, ho aspettato tanto e adesso finalmente! Ah! Ecco! Il sogno si avvera! Adesso ci serve il nostro indovina indovinello! Blocco degli appunti! Blocco degli appunti! Ok! Sì, sono io! Ok! Faccio un cerchio per la mia testa! Le mie orecchie! E la mia faccia! I miei capelli La mia maglietta Delle linee per le mie gambe Le mie mani Eeeeh I piedi Oh! Non scordiamo le righe sulla maglietta! Ora posso dire... Eccomi! Josh! Josh è il nostro primo indizio! Quando arriverà magenta, che cosa vorrà fare Blu con me? Josh! Ciao! Beh, abbiamo bisogno di altri indizi per poterlo scoprire! Luca! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Un indizio! Avete detto un indizio? Dove? Sul bicchiere! C'è un'impronta sul bicchiere! Il bicchiere è il nostro secondo indizio! Sappiamo cosa fare! Ci serve il nostro indovina, indovinello... Blocco degli appunti! Blocco degli appunti, sì! Ok, vediamo! Il secondo indizio è... Un bicchiere Un grande ovale Delle linee per i lati E una striscia Ed ecco un bicchiere! Allora Qual era il primo? Il ghiaccio! Ghiaccio a cubetti! Bravi! E ora Il secondo indizio è... Ecco un... BICCHIERE! BICCHIERE! Esatto! Dobbiamo scoprire cosa vuole comprare blu con del ghiaccio E un bicchiere Secondo voi che cosa vuole comprare? Un bicchiere di ghiaccio? Nah! È meglio che cerchiamo il terzo indizio! Ehi paletta! Ciao secchiello! Ciao Josh! Come va? Venite! Ciao! Guardate blu! Ha la pittura sulle zampe! Quali colori pensate stia usando? Rosso! Giallo! Rosso e giallo! Certo! Ehi blu! Hai pittura gialla e rossa sulle zampe? Visto ragazzi? Ha creato un nuovo colore! E voi sapete che colore è? Arancione! Ci serviva l'arancione! E ora possiamo disegnare questo gattino! Questa sì che è una grande idea! Noi utilizzeremo la pittura con le dita per fare un quadro dei nostri amici! E lo chiameremo Ritratto degli amici! Straordinario lavoro blu! È un bel gattino! Noi ora dipingeremo tutti i nostri amici! Visto? Blu? Vuoi aggiungere qualcun altro al quadro? E chi? Dei gessi! Disegniamo allora! Uh! Usiamo questo gesso viola per disegnare... Che ne pensate di... Uh! Uccellini! Esatto! Uccellini! Ok, vediamo! Ora usiamo il gesso blu per disegnare... Acqua! Ci siamo! È un fiume! Che ne dite di disegnare qualcosa che può farci navigare lungo il fiume? Cosa disegniamo? Una barca! Sì, una barca! Sì, una barca ci porterà lungo il fiume! Ok, ok... Vediamo un po', allora... Una barca potrebbe essere così... Vado giù e poi su e... Una barca! Visto? Oh! Oh! Eccoti qua, Blu! Beh... Ora portiamo quel messaggio all'amico di sapone scivoloso! Andiamo! Andiamo! Non ci muoviamo! Magari... Dovremmo disegnare qualcosa che possa farci muovere! Cosa potrebbe far muovere una barca? Un remo! Un remo! Bell'idea! Bravi! Wow! Che bel remo hai disegnato, Blu! Allora... Verso l'orizzonte! Partiamo! Ha! Wow! È un'onda gigante! Che cosa facciamo ora? Più veloce! Più veloce, certo! Andiamo più veloce! Oh no! Può raggiungerci! Che cosa possiamo fare ancora? Oh! Dato che ci troviamo in un mondo di gesso... Potremmo... Cancellarla! Ragazzi! Ci è mancato poco! Cerchiamo i cucchiai... Cerchiamo i cucchiai... Cerchiamo i cucchiai... Cucchiai... Ok! Sono in cucina! Dove sono i cucchiai? Ha! Timo... No, 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 no... Salvia! Un indizio! Avete visto i cucchiai? Oh! Salve, signor Sale! Stiamo cercando i cucchiai! Timo... No, no, no... Salvia! Un indizio! Ah! Li hai trovati? Oh! Avete detto un indizio! Oh no! Quello è il signor Sale! Ehi! Pensano che lei sia un indizio! Un indizio! Invece lei è davvero un indizio, signor Sale! Parbleu! Cosa? Io ho un indizio! Oh la la! Ehi! Dobbiamo annotare questo indizio, signor Sale! Nel nostro indovina-indovinello... Blocco degli appunti! Ok! Signor Sale! Facciamo una linea curva per la parte superiore! Qualche puntino... Una linea che va giù e poi di nuovo su... Per fare il corpo! Facciamo le braccia... E la faccia! Ed ecco qui! Ora abbiamo disegnato il signor Sale! Perciò... Il nostro primo indizio... È il signor Sale! Cosa vorrà dirci Blu riguardo al signor Sale? Quale notizia potrebbe volerci dare? Hmm... Beh, sapete... Io credo... Che ci servano ancora altri indizi! Josh! Ho un piccolo regalo per te! Oh! Grazie, signor Sale! È un disegno di secchiello e paletta! Oh! Beh... Vediamo cosa potrebbe... Voler fare... Con me, Josh... Il mio telefono... È la risposta di... Blue's Clues... Blue's Clues... È la risposta di... Blue's Clues... È la risposta di... Blue's Clues... E Magenta è qui! Oh! Eccoti qui, Magenta! Ok, adesso... È il momento di fare la foto! potete aiutarmi a scattarla perfetto vi ringrazio ok meglio che teniate voi il mio telefono ottimo ok vi potete avvicinare un po di più ciao ciao sono paletta e secchiello il signor sale e la questa parte per favore ok ora siamo assolutamente pronti per questa foto quindi sorridete ok ci siamo scattatela è perfetta vi ringrazio grazie guardate un po ehi blu senti ci scatti una fotografia grande 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 grazie andiamo vi ringrazio tanto per l'aiuto di oggi ora è tempo di salutarci ma non prima di aver cantato una canzone ti vorrei ringraziar ti ringrazio per tutto quanto perché usando la testa con un passo alla volta noi possiamo fare tutto quello che vuoi tu ciao ciao ci vediamo presto ciao 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 ciao